Fai! Bravo, lì in all'angolo, vai, lascio lì! Non è brutale lì! Porca, come lo fai? Oh! Oh! Bravo! Ancora lì, ancora lì! E' lui che deve dare il dici teo! Il dici teo è brutta lui! Lì! Non fai i tecnici di spigoli! Vai lì! Eschi! Oh! Oggi non ho fatto sempre quella! Puoi anche attaccare quando vai indietro! Vai sotto la gamba lì! Sì! Mezz'ora non ho fatto quella! Sì! Ok! Faccia la gamba! Prezzo il passo indietro e rientri sulla gamba avanti! Subito! Vai via! Bravo! Luca, presto! Sì! Presto il passo! Sì! Bravo! Reghiera! Eschi da lì! Bravo! Ancora! Eschi da lì! Sì! Tira! Gira! 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 Eschi! Non siamo passati! 10 secondi! Partite! Torso! Vai! Subito! Partite! Vai! 5 secondi! Subito! Pro Behind! Cosa! Sì! Affiliate! Cosa!